Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio spiegarvi come collegare cuffie bluetooth e soundbar ad una tv che non ha il jack per le cuffie e ha un solo ingresso per l'ottico. Allora, prima di tutto avrete bisogno di questo, che è un dispositivo che, come potete vedere, vi permette di avere due ingressi ottici. Quindi va collegato all'unica porta ottica che avete e qui collegate la soundbar e questo dispositivo. Questo dispositivo è un trasmettitore e ricevitore bluetooth che vi permette di, appunto, ricevere e trasmettere audio non solo via bluetooth ma anche via jack e cavo ottico. Quindi collegate questo al televisore, qui collegate la soundbar, quindi la soundbar funziona tranquillamente, qui collegate questo alla seconda porta o alla prima, a seconda della vostra esigenza, insomma. E una volta che avete collegato questo dispositivo dovete alimentarlo. Quindi utilizzate la porta usb del televisore per alimentarlo. Una volta che avete collegato questo al televisore, tramite la porta usb e attraverso questo dispositivo, vi basterà tenere premuto questo pulsante per pochi secondi e poi premere per pochi secondi il pulsante delle cuffie per la sincronizzazione e potete usare sia le cuffie che la soundbar attraverso la connettività ottica. Ovviamente se avete cuffie jack potete usare questo ingresso, quindi non siete obbligati al bluetooth. Non dimenticate che sul lato qui, come potete vedere, ci sono due switch. C'è quello TXRX, cioè trasmettitore e ricevitore e poi c'è quello aux e ottico. Quindi se nel mio caso utilizzate delle cuffie bluetooth insieme alla soundbar dovete impostare TX e ottico. Quindi ricapitolando, collegate questo al televisore, qui collegate la soundbar, qui collegate questo dispositivo, questo lo collegate via usb alla tv per alimentarlo, dopodiché sincronizzate le cuffie. In questo modo potete utilizzare le cuffie bluetooth assieme alla soundbar in contemporanea sulla vostra tv o cuffie via jack in una tv che ha un solo ingresso per l'ottico e non ha ingressi jack. Vi riporto tutto nella descrizione del video nel caso in cui siate interessati ad acquistarli.